La Toscana cresce e si sviluppa anche grazie all'Europa. Per dimostrare attraverso i progetti realizzati in tutta la regione con il contributo dei fondi europei, continua il tour del presidente Enrico Rossi. Terza tappa, la provincia di Prato. La visita è iniziata nella storica tintoria Ciampolini, aperta negli anni 70 quasi 130 dipendenti. Con un contributo del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale di 100.000 euro su un investimento complessivo di 475.000, l'azienda ha sostituito la Ramosa, ovvero il grande macchinario che asciuga i tessuti. Risultato un risparmio del 23% sui consumi e 10 tonnellate in meno di anidride carbonica disperse in aria in un anno. La prima scelta era partita, avevamo presentato un progetto con una macchina anche quella tedesca, perché non avevamo idea del tipo di macchina realizzare. Poi invece siamo passati a una macchina appunto qui del vicino Prato, a pochi chilometri da noi, proprio per avere un'assistenza continua, è un'azienda che è cresciuta tanto negli ultimi anni e che ci ha dato un ottimo prodotto. Siamo veramente contenti, quindi tutto il finanziamento è andato poi all'azienda fratese, quindi sicuramente è rimasto sul territorio e questo è quello che ci fa molto piacere. Dalla tintoria alla produzione di tessuti e filati, alla manteco di Montemurlo che dal 1943 produce stoffe di qualità, quello che vedete l'archivio con i campionari disposti ad anfiteatro, dal 2016 sono arrivati più di un milione di contributi europei ripartiti su diversi progetti, incentrati su ricerca, innovazione, sostenibilità e riuso, poi raddoppiati con gli investimenti. Abbiamo investito nella ricerca e sviluppo, abbiamo investito nella internazionalizzazione, quindi abbiamo investito per dare sviluppo alla nostra azienda ma abbiamo di conseguenza anche a tutto il territorio, perché con l'internazionalizzazione per esempio abbiamo creato nuovi rapporti all'estero, abbiamo creato nuove sinergie e questo ci ha permesso di far crescere l'azienda, di far crescere il valore della percezione dei clienti verso la nostra azienda e quindi è stato davvero molto importante. Dalle aziende alla riqualificazione di interi quartieri grazie a un PIO, progetto di innovazione urbana che riguarda un'area di 43 ettari nel macrolotto zero, un tempo cuore produttivo di Prato e oggi quartiere dove vivono prevalentemente immigrati di origine cinese, con un investimento complessivo di 8 milioni e mezzo di euro, di cui 5 e 7 finanziati con risorse europee, sono appena stati avviati i lavori per realizzare su parte del vecchio stabilimento Forti un mercato metropolitano coperto dedicato ai prodotti a chilometro zero e alle eccellenze del territorio. Ecco l'idea di portare qui servizi in modo che ci sia la possibilità delle persone che vengano a fare cose, il mercato coperto qui, playground qualche metro un po' più in giù e soprattutto per i più giovani la media library a pochi metri di distanza sempre da questo intervento, in modo da poter ridare a quest'area funzioni, funzioni che qui mancavano perché questa era una zona artigianale e di residenza, qui era nato un pezzo della storia dell'artigianato di Prato e se non interviamo attraverso le risorse pubbliche era praticamente impossibile perché per i privati sarebbe stato veramente un investimento molto molto grosso. Io penso che da questo punto di vista sia stata fatta un'ottima operazione. Operazione di rigenerazione urbana peraltro non scontata. Io stesso andai in Europa a discutere perché non volevano dare contributi in questa direzione. Il punto di uscita con l'Europa se discutiamo le soluzioni, se un'avanza proposte serie le soluzioni si trovano e il punto di uscita fu che non intervenivamo solo a ristrutturare, solo a muovere cemento armato o mattoni ma intervenivamo per creare le condizioni per la crescita, per lo sviluppo, quindi per il lavoro. L'Europa è anche formazione. Nelle immagini vedete il PIN, il polo universitario della città di Prato dove si organizzano corsi di formazione soprattutto nel campo del tessile declinati su temi strategici come l'eco-sostenibilità e gli smart textile, i tessuti intelligenti. Sul progetto Eco Textile Designer sono stati investiti 120.000 euro, la metà dal Fondo Sociale Europeo. Abbiamo in questo momento un corso in atto e prossimamente lanceremo anche due nuovi corsi sul tessile sempre finanziati uno sul chimico tintore che è una figura che era sparita dal ciclo di formazione nella scuola superiore e che quindi noi abbiamo ripestinato attraverso un riconoscimento prima della figura e ora attraverso un corso che sarà gratuito e di prossima attivazione. Così come è diventato fondamentale il controllo qualità per cui lanceremo anche sempre finanziato un corso per tecnico del controllo qualità del prodotto tessile. Tappa successiva del Presidente Rossi, il Centro per l'Arte Contemporanea Pecci è ampliato e rinnovato con un contributo pubblico di 2.400.000 euro su un investimento complessivo di 3.400.000 euro. L'operazione consentirà a partire dalla prossima estate di esporre gratuitamente la collezione in quanto patrimonio pubblico. E poi ci ha dato la possibilità di recuperare tante funzioni sociali del museo. Quindi stiamo adesso completando il cantiere che porterà ad acquisire nuove sale didattiche quindi un lavoro rinnovato e rinforzato con le scuole del territorio e non solo le scuole ma con le famiglie anche. Ci ha permesso di aprire questo cinema dove ci troviamo adesso e che è un elemento veramente importante proprio per il museo perché completa un'offerta che da sempre è stata aperta a tanti linguaggi e non solo all'arte contemporanea. Ho saputo proprio oggi che la prima mostra fatta al Pecci nel 1988, l'anno dell'inaugurazione era dedicata all'Europa e quindi mi fa piacere due volte ricordare che questa struttura è stata ampliata rimodernata, modernizzata e messa in sicurezza e anche abbellita se posso dire grazie ancora una volta a un contributo importante che la regione ha messo e che veniva dall'Europa. Il tour in provincia di Prato del Presidente Rossi si è concluso all'Istituto Tecnico Buzzi. Fondato nel 1886 come scuola per tessili, chimici e tintori, il Buzzi ha adeguato i propri corsi alle mutazioni del sistema moda. In collaborazione con il PIN ha investito 138 mila euro nell'alternanza scuola-lavoro. Con i contributi europei è stato realizzato il nuovo laboratorio. Il finanziamento europeo circa 3-4 anni fa è stato un finanziamento che ha permesso di rinnovare il laboratorio. Qui siamo nella nuova sede inaugurata nel 2016, poi abbiamo un'altra, Fisiomeccania, nel 2017. È stato un finanziamento che ha proprio permesso questo passaggio dalla vecchia sede a questa nuova ed è stato ben augurante anche da un punto di vista di processo di lavoro perché questi spazi molto razionali e molto moderni ci hanno permesso anche acquisto di strumentazioni di livello molto elevato e conseguentemente offrire un servizio analitico molto aggiornato per quelle che sono le esigenze dei brand internazionali della moda. Insomma, senza i fondi europei arrivati negli ultimi 15 anni grazie ai vari programmi operativi delle politiche di coesione la Toscana come l'Italia sarebbe meno sviluppata, dinamica e coesa. Anche oggi tantissime iniziative di qualità che riguardano il mondo del lavoro, le imprese, che riguardano la formazione, che riguardano la cultura hanno dietro questo rapporto tra regione Toscana e Europa il buon utilizzo dei fondi europei e poi una società civile e istituzioni che sanno fare progetti. Dal 2007 al 2013 la regione ha distribuito in provincia di Prato contributi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per oltre 68 milioni di euro che hanno attivato 114 milioni di investimenti su 621 progetti. Sempre dal 2007 al 2013 il Fondo Sociale Europeo ha portato nel Pratese contributi per 31 milioni in 2247 interventi. Nello stesso periodo il Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale ha erogato contributi per 5 milioni di euro che hanno attivato 9 milioni di investimenti su 835 progetti. La programmazione 2014-2020 è ancora in corso. Ad oggi tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale la provincia di Prato ha ricevuto contributi per 28 milioni e 192 mila euro tramite il Fondo Sociale Europeo per 16 milioni e tramite il Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 7 milioni e 883 mila euro.